Lo stato dei conti pubblici in Gran Bretagna è peggiorato più del previsto durante il mese di ottobre. E' quanto comunica l'Ufficio di Statistica di Sua Maestà a due settimane dalla presentazione davanti ai comuni della finanziaria per il 2013. Il governo di David Cameron ha chiesto prestiti per oltre 10 miliardi di euro durante il mese di ottobre, contro una previsione limitata a poco più di 8 miliardi di euro. Grazie a tutti.